buonasera ragazzi non ce la fa più bisogna la dia questa cosa innanzitutto per chi volesse sostenere il canale iscrizione gratis attivate la campanellina se vi fa piacere altrimenti non ci sono problemi si fanno due chiacchiere uguale allora io penso io penso seriamente una cosa mi sono mi sono anche scritto quello che poi dopo devo andare a dire mi sono scritto i punti che devo toccare come spesso faccio mi hanno noto le cose devo dire se no me ne scordo le talla le talla avanza anche per me allora io quello che ti voglio dire è solamente una cosa che oggi c'è stato un bombardamento mediatico pur essendo la domenica delle palme tranne il giornale di pechino e tranne quelli che sono compromessi con pechino e ancora sono lì che ti vendono mercati faraonici con questa proprietà gudmuzo zilze buongiorno mercato top mercato tip mercato tap vi ricordate quando moratti lasciò la presidenza facchetti erano c'erano altri motivi fortunatamente non c'era questa schifezza che c'era ora però io prima di andare a letto stasera bisogna e ti dico una cosa a me il tè non piace bevo la camomilla soprattutto in questo periodo la storia dell'inter che sta ricettando questo schifo che c'è in atto che lo sia tutti i problemi di questa di questo personaggio che è sparito da un anno non ho problemi a dirlo la storia dell'inter impone un cambio immediato di presidente lui o si dimette o lo fate dimettere voi capito lui o si dimette o lo fate dimettere voi voi dovete avere rispetto dell'inter parlo anche dei dirigenti perché questo si va a schiantare non gliene frega nulla questo vi o si dimette lui o lo fate dimettere voi la storia dell'inter impone che venga sostituito il presidente che che venga messa una figura pulita una pulita una figura che rappresenta il calcio una figura storica una figura indiscutibile come già via zanetti quindi togliete dalla carica il presidente stime zang e mettete già via zanetti perché ripeto lo impone la storia dell'inter perché è una vergogna è una vergogna ci siamo rotti io ho sentito anche persone che fino all'altro giorno lo hanno difeso questo personaggio si sono rotti le scatole tutti tranne quelli compromessi un nanchino e ancora su youtube ti fanno i mercati con chi lo fa in mercato con un con il fantasma formaggino stai facendo il mercato con chi lo fai con chi vuoi fare mercati quanti ne vendi per prendere un per prenderne uno gente non sa nemmeno di chi è il bond gente non sa nemmeno se è un prestito che fanno i mercati con zang siete dei venduti compromessi a voi dell'inter non ve ne frega nulla siete dei venduti compromessi continuate a parlare bene di zang voi siete dei venduti compromessi siete ridicoli io lo ammetto è uno schifo io io sono tifoso dell'inter lo ammetto ma non sono tifoso dell'inter perché c'ho la tazza dell'inter io sono tifoso dell'inter sul serio perché c'ho il cappellino dell'inter è uno schifo però tutto ha un limite che i tifosi della juve e che quelli del milan alzino la testa verso di noi non penso proprio perché ora vengo a te caro gobbetto che hai alzato la testa te solo quest'anno solo per quest'anno dovresti stare muto te caro gobbo c'hai due squalificati uno per doping e uno per calcio scommesse e te non avresti dovuto partecipare mai a questo campionato poi se mi parli di cinese ti do ragione ma te a questo campionato non avresti dovuto partecipare mai te in un paese serio con un sistema calcio serio stessi stato radiato vent'anni fa caro gioventino perché ti devo ricordare calciopoli passaporti bilanci topping prima e dopo poi gli agnelli evasione fiscale e i beni i beni nascosti in svizzera ma di osa ragioni te gioventino ma di osa ragioni vogliamo parlare poi di milanisti visto si parla di presidente con onorabilità vuoi ragione anche con te milanista ragione anche con te non ho problemi vuoi ti parli di berlusconi condannato in via definitiva per evasione fiscale vuoi ti parli di questo implicato in indagini per mafia vuoi ti dia questo del povero berlusconi non c'è più ci mancherebbe vuoi ti parli del processo rudi primo secondo terzo grado i decidi sportivi milenovecentottanta del milan calciopoli ma di osa ragioni ce lo sciogliamo noi noto di cinese ma voi dovete stare muti non potete parlare ci pensiamo noi ai cinese non ti preoccupare perché ormai la storia dell'inter lo sta ricettando e lo ripeto per l'ultima volta in chiusura di video la storia dell'inter il po impone un cambio immediato di presidente mettete lì zanetti prima e qualche uno prima e qua prima e la figc ci faccia qualche scherzetto mettete subito zanetti togliete togliete subito la aria la carica di presidente non me ne so ci dimettetevi voi decidiamo fate qualcosa toglietelo da lì e mettete zanetti ciao inter